Noi non possiamo che essere onorati di avere qua con noi il professor Silvio Garattini, che tutti conoscono, quindi presentarlo è da una parte facilissimo, da un'altra parte un pochino complesso, perché ha tante di quelle, come si dice, stellette sul taschino che è quasi impossibile numerarle tutte. Però lui è innanzitutto famoso perché è un grandissimo farmacologo, la cui fama valica i confini chiaramente nostri, nazionali, perché già dal 1963 ha fondato, da allora prima diretto e poi assunto la carica di presidente, dell'istituto farmacologico Mario Negri, che tra l'altro ha il merito, oltre che aver portato grandissime scoperte in ambito scientifico, soprattutto farmacologico, nelle terapie, nelle chemioterapie, nelle terapie delle malattie neurologiche, in ogni altro aspetto della farmacologia, ha anche prodotto una quantità di allievi che si sono formati in questa scuola e una tale produzione scientifica in ambito farmacologico da assumere veramente un rilievo mondiale. Il professor Garattini, che dire, dire tutte le cose di cui lui è stato fondatore, presidente, socio, membro a livello nazionale o a livello internazionale, io lascerei proprio perdere perché è un'impresa improba. E allora voglio invece far riferimento al fatto che il professor Garattini è legato alla nostra terra anche da un rapporto particolare. Mi diceva adesso che addirittura lui ha una casa qui vicino a Todi e i cittadini di Bevagna lo hanno oramai da più di 30 anni eletto come socio, come cittadino onorario di Bevagna. Lui presiede una commissione che attribuisce il premio Ercole Pisello a dei grandi pensatori, scienziati di livello il più elevato e la presiede lui. C'è, non so se ci sono ancora, il professor... Il dottor Pisello è qui. Il dottor Pisello è qua, non so se c'è ancora nella commissione Maurizio Tonato, il professor Tonato, il professor Massimo Martelli, ecco, persone di grande rilievo. Ecco, questo per dire che fermerei qui l'enunciazione, diciamo, di quelli che sono gli attributi che tutti conosciamo del professore, che stasera ci parlerà di un tema che è, direi, centrale. Perché noi viviamo in un paese che ha avuto la fortuna negli anni, alla fine degli anni 70, io vengo dalla scuola di igiene del professor Zeppilli e insieme alla scuola di igiene di Milano, il professor Giovanardi, è stato pensato un sistema sanitario nazionale che era un po' il nostro orgoglio, che aveva un'impronta di tipo universalistico e che aveva il senso di assicurare a tutti, tutti i cittadini, una copertura sanitaria. Ora, tutto questo sta scricchiolando. Queste crepe che il professor Garattini stasera ci indicherà nascono da lontano, nascono da una deriva in senso privatistico del nostro sistema sanitario, che da pubblico rischia di diventare un qualcosa. La salute non è una cosa che si vende, la salute è un diritto al quale noi dobbiamo dare risposte. E poi c'è stata la crisi, l'aziendalizzazione delle USL. Questo ha creato un privilegio di quello che è il contenimento dei costi a sfavore della qualità dei servizi prestati. Noi ci lamentiamo perché ci sono delle liste di attesa, ma le liste di attesa non possono che essere il portato del fatto che da anni c'è una politica che tende al contenimento dei costi con la riduzione, per esempio, del personale. Non possiamo lamentarci del fatto che non ci sono medici, perché chiaramente se all'università non vengono fornite risorse per dare borse di studio per gli specializzanti, i medici non vengono fuori. Quindi direi che ci sono una quantità di problemi che sicuramente sarà interessante ascoltare molto meglio di quanto non possa fare io dal professor Garattini. Buon pomeriggio a tutti, sono molto lieto di essere anche quest'anno qui con voi perché ormai è una tradizione quella di venire a Foligno per questo festival così importante, così ricco di manifestazioni. Questa sera discutiamo un po' di servizio sanitario nazionale. Intanto io credo che dobbiamo sottolineare il fatto che il servizio sanitario nazionale è un bene straordinario che abbiamo a disposizione. È vero che ha delle crepe, però certamente è un bene a cui non possiamo e non dobbiamo rinunciare perché oggi, ancora oggi, al di là appunto dei problemi che cercheremo poi di sollevare e di discutere, il servizio sanitario nazionale fa anche delle cose straordinarie perché ci sono pochi che potrebbero pagarsi 100.000 euro all'anno di farmaci per curare un tumore. Ce ne sono pochi che avrebbero i soldi per un intervento di cardiochirurgia o per un trapianto d'organo. Eppure questo lo si fa comunemente nel nostro servizio sanitario nazionale. Quindi la critica è sempre molto importante per migliorare le cose, però stiamo attenti anche a ritenere gli aspetti importanti perché molti di voi sono pochi quelli che hanno un'idea precisa di come era prima, del 1978, quando non c'era il servizio sanitario nazionale. Io che ho un lungo chilometraggio, lo so perché io c'ero e quindi so benissimo come erano le situazioni e lo so, vi devo dire, anche per ragioni familiari perché abbiamo avuto problemi gravi di salute nell'ambito della mia famiglia, la famiglia che era modesta e allora quelle che erano le casse mutue malattie, sì, facevano qualcosa, ma per tempi molto brevi e per quantità relativamente limitate. Io posso dire che mio padre ha dovuto prendere un secondo lavoro per avere i soldi necessari per pagare i medici, i farmaci e tutto quello che serviva per degli ammalati gravi che avevamo in famiglia. Quindi allora era un periodo in cui chi aveva i soldi si poteva curare e chi non li aveva preso per lui. Oggi largamente questo non è il caso, anche se ci sono dei limiti a quello che cerchiamo di fare. Allora io vorrei cominciare a farvi vedere che dobbiamo in qualche modo cambiare paradigma nella visione del Servizio Sanitario Nazionale, perché che cosa abbiamo fatto in tutti questi anni? Abbiamo fatto certamente qualcosa di molto importante, perché abbiamo fatto in modo che le malattie si possono curare. Fino a tanti anni fa, ma anche non molto tempo fa, tante malattie non avevano rimedi. Oggi molte malattie hanno dei rimedi. Prima era molto più difficile curare determinate malattie che sono malattie croniche. Oggi è più facile, anche in campi complicati come quelli dei tumori. Abbiamo rimedi che ci permettono tante volte non di risolvere il problema, non di guarire, ma di allungare la vita, di renderla meno penosa, meno dolorosa. Abbiamo tanti farmaci che ci aiutano. Però nel fare questo abbiamo costruito un sistema che ha ignorato un altro aspetto molto importante, e cioè ci siamo dimenticati del fatto che molte malattie non avvengono, non piovono dal cielo. Molte malattie siamo noi che ce le autoinfliggiamo e poi ci lamentiamo perché arrivano. Ma sono malattie evitabili. Voi pensate che più del 50% delle malattie croniche, quelle che impiegano il 70% delle risorse del servizio sanitario nazionale sono evitabili. Il diabete di tipo 2 è evitabile. Dipende da molti fattori che poi magari cercheremo di descrivere. L'insufficienza cardiaca è evitabile. Poi molte di queste malattie generano altre malattie. Per esempio il diabete determina problemi della visione che poi dobbiamo curare. Determina problemi alle funzioni renali, i danni del rene da diabete che poi magari dobbiamo ricorrere addirittura alla dialisi per poterlo curare. Abbiamo tante malattie che derivano da altre malattie e questo fa sì che molto spesso ci ritroviamo con pazienti che hanno più di una malattia ma, lo ripeto, sono evitabili. Pensate che più del 50% dei tumori è evitabile. Eppure muoiono in Italia ogni anno 180.000 persone di tumore. Quindi più del 50% vuol dire che invece di 180.000 ne potremmo avere 90.000. e pensate a tutti gli anni di vita persi. Noi abbiamo il grande orgoglio in qualche modo di dire che siamo il paese più longevo, siamo fra i paesi più longevi del mondo perché siamo al livello dei primi in classifica. I maschi vivono quasi 82 anni, le femmine un po' di più di 85 anni e siamo orgogliosi. Però che cosa ci interessa? Ci interessa la durata di vita o ci interessa invece di più la durata di vita sana? Perché è la durata di vita sana che ci interessa. Allora sapete da dove andiamo dal primo posto se andiamo a guardare la durata di vita sana? Andiamo al quindicesimo posto nella classifica. Perché la durata di vita sana diventa in media, quindi più o meno, ma diventa 66 anni per i maschi e 67 anni per le femmine. Cioè annulliamo quella differenza che c'è invece se guardiamo la durata di vita totale. Ecco, quindi come ho detto, dobbiamo cambiare il paradigma. Cioè dobbiamo fare quella che potremmo definire una grande rivoluzione culturale. Dobbiamo cambiare cultura e rimettere al suo posto quella parola che abbiamo ignorato in tutti questi anni che è prevenzione. Prevenzione vuol dire prevedere, vuol dire evitare che qualcosa accada perché facciamo delle cose prima che accadano. E le cose che dobbiamo fare le sappiamo tutti più o meno. Poi non le facciamo. E allora ci dobbiamo chiedere anche il perché non le facciamo. Ma prima di tutto dobbiamo sapere che le abitudini di vita possono essere buone o possono essere meno buone. Se sono buone vanno nella direzione di aumentare la durata di vita sana. Se sono meno buone diminuiscono la durata di vita sana. E quindi è per questo che noi dobbiamo fare attenzione. E certamente tutti sappiamo che il fumo fa male. Chi non lo sa. però abbiamo ancora in Italia 14 milioni di fumatori. E abbiamo il fatto che purtroppo le donne per sbagliate impostazioni di parità di diritti hanno seguito una via che non era la via migliore. pensate che quando io ero agli inizi della mia ricerca, una ricerca che facevamo era il cercare di capire perché le donne non avevano il tumore del polmone. Perché le donne 50 anni fa, 60 anni fa, non avevano il tumore del polmone. Noi pensavamo che nelle donne ci fosse un principio attivo che impediva il tumore del polmone. Difatti studiavamo negli animali di esperimento, prevevamo il tumore di animali femmine per cercare di purificare il tumore. Il fattore che poteva essere. Naturalmente non abbiamo avuto nessun risultato perché il fatto che le donne non avessero il tumore del polmone è perché non fumavano. E quindi era molto semplice. Quando hanno cominciato a fumare hanno cominciato a avere il tumore del polmone. E pensate che oggi le donne hanno un aumento del tumore del polmone perché c'è un aumento nel numero delle fumatrici, mentre i maschi hanno una diminuzione del tumore del polmone rispetto a un po' di anni fa. E c'è anche un'altra caratteristica nei fumatori che i fumatori sono più fumatori quelli che hanno un basso livello culturale, quelle che chiamiamo un basso livello socio-economico, mentre invece nelle donne è il contrario. Cioè sono le donne che hanno una laurea, quelle che fumano di più di quelle che hanno una licenza elementare. E quindi abbiamo ancora una lunga strada perché questa era la situazione dei maschi 50 anni fa. 50 anni fa era l'opposto. Poi chi ha un po' più di testa capisce che è meglio non fumare. E quindi piano piano diminuisce. Qui per le donne siamo ancora invece in una situazione opposta. Ma a parte questo bisogna tenere presente che il fumo non è soltanto tumore del polmone. È vero, 85% dei tumori del polmone almeno sono attribuibili ai fumatori. Su questo non c'è ormai più nessun lupio perché c'è tutta la letteratura scientifica a sostegno di questo. Ma non c'è soltanto questo. Ci sono altri tumori che dipendono dal fumo. Pensate che in totale ci sono 28 malattie che dipendono dal fumo, dal tabacco. E alcune a cui non si penserebbe. Per esempio l'artrite reumatoide ha come fattore di rischio, non tutti quelli che hanno l'artrite reumatoide fumano, ma l'artrite reumatoide è un po' di più in quelli che fumano rispetto a quelli che non fumano. Ci sono 28 malattie, poi molte le conoscete tutti perché l'infarto cardiaco, l'ictus cerebrale, sono malattie in cui il fumo è rilevante perché fumare vuol dire diventare dipendenti dalla nicotina e la nicotina è un fattore tossico per il nostro cuore e anche per i polmoni. Quindi questa è la ragione per cui il fumo è veramente una delle ragioni più importanti su cui dovremmo cercare di agire per migliorare la situazione. 14 milioni ci mettono in una delle prime posizioni del mondo in termini di fumatori e naturalmente non c'è neanche grande interesse a smettere perché non dimentichiamoci che lo Stato si appropria di 14 miliardi di tasse sul fumo ogni anno e quindi è un po' difficile pensare che chi si prende 14 miliardi sia interessato a fare la propaganda contro il fumo. Ma siamo noi che dobbiamo renderci conto della importanza del fumo. E poi abbiamo l'alcol, un altro agente cancerogeno. Ecco, sull'alcol, e qui questo è un discorso un po' difficile perché queste sono anche zone in cui il vino è molto buono, il vino fa parte dell'alimentazione quotidiana, però l'alcol è cancerogeno e quando diciamo cancerogeno vuol dire che non c'è una soglia, vuol dire che qualsiasi quantità di alcol può dar luogo a tumore e non è detto che tutti quelli che bevono c'è una proporzionalità ovviamente dal punto di vista statistico, quanto più si beve tanto più aumenta il rischio, però l'alcol è una sostanza cancerogena perché quando scende attraverso la bocca, attraverso l'esofago e poi nello stomaco l'ede uccide delle cellule e queste cellule poi si devono rigenerare e rigenerandosi possono avere delle mutazioni che danno luogo a tumori. Se queste cellule non muoiono a causa dell'alcol non si devono rigenerare e quindi c'è meno probabilità che si formi un tumore. E questo è un altro punto molto importante. È chiaro che non sposiamo mai le idee estreme, però sappiamo che non dovremmo, per stare in un'area relativamente sicura, non dovremmo eccedere i 100 grammi di alcol alla settimana, il che vuol dire un po' meno di un bicchiere di vino rosso al giorno. Quindi questo è il limite che naturalmente non è seguito da molti, lo sappiamo benissimo. abbiamo anche perché il danno del fumo e dell'alcol dipendono dal fatto che generano dipendenza, cioè poi a un certo punto è difficile staccarsi dall'uso e del fumo e dell'alcol, come dalle droghe, che anche loro diciamo sono pericolose perché generano dipendenza. Come genera dipendenza i giochi d'azzardo, un altro tipo di dipendenza che non ha a che fare direttamente con la salute, ma ha a che fare indirettamente con la salute, perché molti di quelli che poi si indebitano con i giochi d'azzardo creano problemi familiari, creano tanti tipi di problemi. Quindi c'è tutto questo gruppo delle dipendenze in cui entra anche la dipendenza dal cibo. Il cibo è un altro elemento che induce dipendenza. E anche qui abbiamo delle regole, perché noi alla fine siamo quello che mangiamo, perché tutti i giorni mangiamo qualcosa. e quindi noi dovremmo avere delle attenzioni a quello che mangiamo. Noi dovremmo avere una dieta che potremmo definire varia ma moderata. Cioè varia vuol dire che dobbiamo mangiare di tutto, vuol dire che dobbiamo alternare, non dobbiamo mangiare sempre la stessa cosa, perché in questo modo acquisiamo tutti i macro e i micro nutrienti di cui abbiamo bisogno. Ma c'è un'altra ragione per cui è importante la varietà, perché oggi i cibi sono inquinati e quindi se mangiamo sempre la stessa cosa accumuliamo lo stesso tipo di inquinante. Se mangiamo cose diverse, abbiamo inquinanti diversi, ma in piccole quantità e quindi con minore possibilità di tossicità. Ma diciamo varia moderata, il che non scopriamo niente di nuovo, perché i nostri nonni ci dicevano che bisogna alzarsi da tavola con un po' di fame. Allora lo dicevano a scopo consolatorio, perché c'era poco da mangiare. Adesso i frigoriferi sono pieni e quindi abbiamo a maggior ragione e oggi sappiamo benissimo che attuare questa impostazione di una dieta varia e moderata, cioè mangiare un po' di meno di quello che sarebbe necessario, è un fattore di longevità. Cioè la durata della vita dipende molto dalle quantità che mangiamo ed è facilmente intuibile perché quanto più mangiamo, tanto più facciamo lavorare il nostro organismo e quanto più lo facciamo lavorare, tanto più diamo possibilità che sia fatiche e che quindi crei poi delle malattie, così come qualsiasi macchina, se la facciamo lavorare troppo dura di meno. E quindi questo è un altro aspetto molto importante in cui possiamo fare poi all'interno del cibo, dobbiamo fare tante altre discussioni. Per esempio la tendenza a mangiare la carne rossa è una tendenza contraria alla salute e oggi sappiamo perché e lo sappiamo per tante ragioni ma una delle ragioni ve la voglio raccontare perché è una ragione che conosciamo relativamente da poco tempo. Cioè quando noi mangiamo carne rossa mangiamo in buone quantità anche una sostanza che è presente nella carne che si chiama colina la quale quando la carne va nel nostro intestino arriva nel posto in cui abbiamo trilioni di batteri, funghi, virus perché nel nostro intestino abbiamo quello che adesso chiamiamo il microbiota che è questa grande quantità ripeto trilioni quindi migliaia di miliardi i quali non sono tutti questi batteri non è che siano lì per fare niente se sono lì producono qualcosa producono i loro metaboliti a loro volta metabolizzano quindi quello che noi mangiamo viene poi elaborato da questi batteri e da questi funghi e molti dei prodotti rientrano poi nella nella circolazione tant'è vero che noi oggi sappiamo che molti dei problemi che avvengono nel cervello dipendono dall'intestino perché è nell'intestino che si elaborano sostanze che possono essere poi dannose per il nostro cervello ma per rimanere al problema della carne rossa ecco un prodotto che si forma dalla carne rossa è un prodotto che si chiama trimetilamina che è un nome molto semplice da ricordare la trimetilamina viene assorbita va nel sangue e va anche nel fegato e nel fegato viene trasformata in un altro composto che si chiama trimetilamina n-ossido che più semplicemente chiamiamo tau con una sigla questa tau questa molecola è una molecola che è molto lesiva per il nostro sistema cardiaco ed è anche responsabile di molti dei problemi che abbiamo in quelle forme di dilattazione della orta che chiamiamo neurisma ecco un esempio di come oggi sappiamo e prima lo sapevamo solo su dato epidemiologico chi mangia molto carne ha tutta una serie di problemi fra cui il tumore del colon e i problemi cardiaci adesso sappiamo una delle ragioni ce ne saranno probabilmente anche molte di più ma una delle ragioni la conosciamo e quindi possiamo dire ma poi pensate in termini più generali perché la salute non è soltanto la salute del nostro organismo è la salute del mondo in cui viviamo quello che l'organizzazione mondiale della sanità chiama one health una salute la salute è complesso di tante cose noi mangiamo tanta carne ma mangiamo tanta carne abbiamo un altro problema cioè che per mangiare tanta carne abbiamo tanti posti in cui si fa un allevamento intensivo degli animali noi consumiamo 9 milioni di bovini all'anno consumiamo 8 milioni di suini e 500 milioni di gallinacei ogni anno tutti questo allevamento che cosa fa questo allevamento crea quella che chiamiamo i gas serra crea ammoniaca crea una serie di problemi che vanno nell'aria poi nell'aria cosa succede succede che si formano quelle piccole particelle che conosciamo tutti perché ormai le sentiamo nominare tante volte i PM2 5 i PM10 che cosa sono sono il prodotto che ingloba primariamente tutto questo che deriva dagli allevamenti intensivi ma poi gli allevamenti intensivi cosa fanno usano una gran quantità di antibiotici e gli antibiotici ritornano da noi e poi abbiamo il problema dell'antibiotico resistenza noi siamo il paese che utilizzando il maggior numero di antibiotici di tutta l'Unione europea abbiamo più morti da antibiotico resistenza di tutta la comunità europea la comunità europea ha 33.000 morti all'anno per diciamo antibiotico resistenza e 10.000 sono italiani quindi un terzo di tutto l'Europa quindi vedete come le cose sono intimamente connesse cioè parliamo di alimentazione ma se parliamo di una parte solo dell'alimentazione che è la carne vedete quante altre implicazioni ci sono e poi naturalmente mangiare troppo vuol dire aumentare di peso aumentare di peso diventare obesi è un altro fattore molto importante di malattie perché aumentare di peso cosa vuol dire vuol dire che il nostro organismo deve far circolare meglio il sangue e per una massa molto maggiore di quella per cui è fatto essere obesi vuol dire portare un peso sulla nostra colonna vertebrale molto più importante di quello per cui è fatta e quindi se facciamo questo poi non possiamo lamentarci se abbiamo artrosi se abbiamo mal di schiena se abbiamo tanti altri tipi di problemi di malattie quando passa il tempo dipende da quello che abbiamo fatto prima e così potremmo andare avanti perché l'obesità l'aumento di peso è un fattore negativo che si somma eventualmente a tutti gli altri fattori l'esercizio fisico un altro aspetto molto importante di cui ci dimentichiamo noi siamo uno dei paesi più sedentari perché stiamo fermi non ci muoviamo e invece dovremmo muoverci dovremmo camminare non c'è bisogno di fare grandi cose basta avere almeno 30 minuti al giorno di buon cammino facendo fatica perché il miglioramento non avviene camminando o guardando le vetrine il miglioramento avviene se uno fa fatica cioè se alla fine c'è un po' di battito cardiaco che aumenta se soffia un po' quello è l'esercizio che fa bene e basta fare mezz'ora al giorno per avere un risultato impossibile se lo facciamo frequentemente naturalmente e quello perché è importante è importante per tante ragioni noi sappiamo certamente che è importante per la circolazione che è importante per l'attività cardiaca ma è molto importante per il cervello perché se noi facciamo questo tipo di sforzo liberiamo dalle nostre arterie dei principi attivi che sciolgono i piccoli coaguli che si formano regolarmente nel nostro cervello nei nostri capillari e sono quelli che poi danneggiano i neuroni perché i neuroni hanno bisogno di avere ossigeno hanno bisogno di avere diciamo i principi attivi che servono ma se i capillari sono occlusi evidentemente non ci arrivano e quindi perdiamo neuroni invece se facciamo esercizio fisico preserviamo i nostri neuroni è ancora importante l'attività intellettuale perché è quella che ci permette di realizzare una buona quantità di riserva cognitiva chiamiamola così cioè se abbiamo una forte riserva cognitiva quando poi viene l'età in cui perdiamo la memoria e abbiamo un po' di problemi beh se abbiamo una buona riserva cognitiva piano piano perdiamo ma duriamo a lungo se ne abbiamo poca va via subito e quindi insomma dobbiamo stare attenti anche a questo il sonno è un altro elemento anche questo voglio sottolinearlo perché normalmente si pensa al sonno soltanto al fatto che è buono perché riposiamo certamente è importante perché riposiamo il nostro sistema muscolo scheletrico ha bisogno di riposo perché durante la giornata si muove e quindi ha bisogno di sonno però il sonno è importante per un'altra ragione è che il nostro cervello è l'organo che lavora di più perché deve sovraintendere a tutte le funzioni di tutti gli altri organi e quindi fa un gran lavoro facendo un gran lavoro fa come fanno le macchine cioè c'è un mucchio di scorie che sono il frutto del suo metabolismo queste scorie non vengono eliminate durante la giornata perché non ce la fa il cervello durante la notte quando si dorme la velocità di trasporto delle scorie è raddoppia e quindi noi se dormiamo almeno sette ore al giorno puliamo il nostro cervello da tutte le scorie se non lo puliamo le scorie rimangono lì e danneggiano le nostre cellule e se danneggiano le cellule del cervello evidentemente le conseguenze sono facili da immaginare ecco quindi noi potremmo continuare per delle ore a discutere di questi problemi il concetto principale è che dobbiamo cambiare paradigma dobbiamo riportare il problema della prevenzione alla centralità di quello che noi vogliamo fare per la nostra salute e di riferimento non soltanto perché prima di tutto l'essere attenti alle buone abitudini di vita è una forma di sano egoismo perché i primi a usufruire noi siamo noi noi non ci pensiamo ma abbiamo dei quando si è ammalati non è che si sta bene avere un tumore non è una forma così piacevole ma non è soltanto per noi perché se ci pensate danneggiamo anche i nostri familiari perché se c'è qualcuno di ammalato tutta la famiglia ne soffre danneggiamo la comunità perché se siamo ammalati non interagiamo con il resto della comunità e poi danneggiamo il servizio sanitario nazionale perché facciamo fare al servizio sanitario nazionale del lavoro che sarebbe inutile e quindi abbiamo una responsabilità perché sottraiamo risorse che potrebbero essere disponibili per quelli per cui le malattie non sono evitabili e quindi abbiamo quando proclamiamo il diritto alla salute dobbiamo sempre pensare che ogni diritto si accompagna a doveri e quindi abbiamo il diritto alla salute ma il dovere di mantenere la nostra salute perché il servizio sanitario nazionale lo potremo sostenere cioè avrà una sua sostenibilità purché attuiamo una forma di prevenzione efficace poi la prevenzione ci dobbiamo chiedere ma se sappiamo tutto questo perché non lo facciamo e ci sono tante ragioni e una ragione è che abbiamo tanti alibi i fumatori i fumatori sono sono dei bugiardi per per loro mentalità perché vi dicono sempre che fumano di meno poi caso strano ma tutti i fumatori hanno un nonno che è vissuto fino a 95 anni fumando un pacchetto al giorno tutti si capisce perché poi tutti quelli che muoiono di tumore del polmone siano dei fumatori ma tutti hanno un nonno che ha vissuto almeno fino a 95 anni fumando e poi naturalmente ci sono altri alibi perché noi medici spesso non diamo il buon esempio e quindi un altro alibi è ma se il mio medico fuma lui che sa tutto vuol dire che alla fine non è qualcosa importante ce lo dicono a noi ma loro però poi fumano bevono sono obesi e quindi anche i medici hanno una una doppia responsabilità in quello che fanno perché dovrebbero essere degli esempi e poi ci sono tanti altri alibi come quelli ma ma io però prendo degli integratori alimentari con cui metto a posto i miei problemi e questo è un altro alibi perché anzi una trappola non è un alibi perché sapete quanto spendiamo per integratori alimentari ogni anno l'anno scorso abbiamo speso 4 miliardi quest'anno ne spenderemo 5 miliardi quindi di integratori alimentari che certamente fanno bene ma chi li vende non c'è nessuna ragione al mondo per pensare che possano essere utili a noi che li compriamo anzi sono in qualche modo dannosi perché molti pensano che con gli integratori alimentari possono mangiare tutto quello che vogliono perché tanto poi integrano con gli alimentari e così abbiamo tutta la pubblicità la pubblicità è contro la prevenzione perché la pubblicità ci dice delle cose che sono false magari non ce le dice in modo completo ma per esempio quando ci dice naturale voi guardate la televisione guardate le pubblicità sui giornali sulle riviste se possono scrivere naturale ce lo scrivono perché abbiamo l'idea che il naturale è buono e quindi se è naturale non può che essere buono ma i peggiori veleni sono naturali i virus e i batteri sono assolutamente naturali quindi il naturale non è buono l'artificiale viene considerato cattivo la chimica è cattiva ma la chimica è quella che ci dà tante cose che sono importantissime per noi quindi togliamoci di testa questa idea della dicotomia fra naturale e artificiale non ha nessun significato il naturale può essere peggio dell'artificiale non so spesso leggete scritto basta una parola c'è scritto immunità allora uno pensa che sia buono per l'immunità ma non è così tante volte c'è scritto anti-invecchiamento ma non è vero cioè ma poi guardate anche il supermercato al supermercato i prodotti bio i prodotti bio non hanno nessuna differenza nessuno ha mai dimostrato che siano differenti dai prodotti normali eppure hanno un grande svantaggio cioè che siccome hanno una bassa produzione costano di più e quindi noi comperiamo qualcosa c'è una ragione per cui si fa la pubblicità del bio costa un po' di più ma c'è anche un danno generale perché i bio richiedono un terreno molto maggiore noi abbiamo milioni di ettari di terreno che vengono coltivati con prodotti bio e la metà basterebbe per invece coltivare dei prodotti normali ma avremmo metà del terreno che possiamo dedicare a fare delle foreste a fare altro tipo di cibo cioè vedete che tutte le cose sono collegate fra di loro se noi potessimo risparmiare terreno per fare delle foreste per mettere degli alberi miglioreremmo la situazione climatica però non lo possiamo fare perché tutti siamo fissati che il bio è buono è un aspetto che diciamo non è assolutamente vero e così potremmo continuare in tantissime altre cose di cui abbiamo l'idea che sia qualcosa di buono ma in realtà non serve quindi abbiamo bisogno di una rivoluzione culturale la prevenzione diventare però dobbiamo anche sapere che è molto difficile perché perché diciamo non abbiamo fatto questa rivoluzione culturale è perché la medicina è diventata un grande mercato e non ci sono mercati che vogliono diventare piccoli tutti i mercati vogliono aumentare e nella loro natura e quindi anche il mercato della medicina vuole aumentare e c'è un conflitto di interesse quindi la difficoltà per realizzare la prevenzione è perché c'è un conflitto di interesse con il mercato e il mercato della medicina se ci pensate un momento ha dei grandi vantaggi rispetto agli altri mercati perché quando voi andate a comprare un prodotto bio oppure un prodotto con cui scritto senza glutine che è un altro modo per farvi pagare le cose un po' di più di quelle che costerebbero normalmente voi siete voi che decidete di prendere quel prodotto che lo usate e che lo pagate ma il mercato della medicina con il servizio sanitario nazionale è un mercato molto agevolato perché chi utilizza il prodotto che siamo noi non lo scegliamo e non lo paghiamo chi sceglie il prodotto che sono i medici non lo utilizzano non lo pagano chi paga che siamo ancora noi ma attraverso lo Stato non sceglie e non utilizza lo Stato paga ma non sceglie e non utilizza quindi il mercato è un mercato molto agevolato abbiamo parlato di una rivoluzione culturale quindi potremmo dire se deve cambiare la cultura cosa deve cambiare beh deve cambiare la scuola e questo è un altro aspetto molto importante che ha a che fare con la prevenzione noi dovremmo avere per esempio una scuola superiore di sanità cosa che non abbiamo dove dovremmo formare tutti i nostri dirigenti perché da dove derivano i nostri dirigenti i dirigenti dell'ASN non derivano da gente che è stata formata per quello derivano molto spesso perché sono amici dei partiti derivano perché hanno fatto in parte prima delle altre attività professionali perché sono dei manager ma la salute è diversa la salute vuol dire non essere interessati al mercato vuol dire essere interessati ai pazienti vuol dire essere interessati agli ammalati e se non formiamo le persone per questi scopi apicali dirigenziali non avremo mai quella cultura che è necessaria perché trionfi la prevenzione sul mercato e poi abbiamo bisogno che i cittadini siano adugati a questo a cominciare dai bambini noi manchiamo completamente nella scuola della presenza di informazioni che riguardano la salute è vero che ci sono tanti bravi professori che fanno anche questo ma nei programmi non ci sono la scienza non è presente nella scuola voi mi direte sì ma la scuola si studia biologia matematica fisica chimica è vero ma che cosa studiamo studiamo il passato cioè studiamo quello che conosciamo come in generale in tutta la scuola italiana la nostra scuola è una scuola del passato perché studiamo la storia della filosofia la storia della letteratura la storia dell'arte ma non arriviamo neanche a sapere cosa rappresenta il 25 aprile i nostri ragazzi non studiano cosa era il fascismo cosa è la dittatura perché non ci arrivano perché la nostra è una scuola del passato e invece abbiamo bisogno della presenza della scienza perché è la scienza che ci aiuta a capire i problemi della salute se noi vogliamo sapere se qualcosa fa bene o fa male mica lo possiamo chiedere al greco mica lo possiamo chiedere alla filosofia non lo possiamo chiedere all'arte lo dobbiamo chiedere alla scienza perché è la scienza l'unica che ha un tipo di conoscenza che può rispondere a queste domande e che ha una metodologia scientifica attraverso cui e noi abbiamo visto i disastri che ci sono stati in termini di conoscenza durante il periodo del covid durante la pandemia perché non c'è cultura scientifica nel nostro paese e dovremmo cominciare la cultura scientifica la cultura della salute dovremmo cominciare dall'asilo e andando avanti in tutte le scuole le nostre facoltà di medicina sono completamente assenti da questo punto di vista chi insegna nelle facoltà di medicina la prevenzione dovrebbe essere parte di tutto quello che si insegna dovrebbe essere una componente al massimo si insegna qualcosa nell'insegnamento di igiene ma se c'è qualcuno che è interessato perché sennò non c'è neanche quello noi abbiamo invece bisogno che diventi una parte importante della nostra cultura e ripeto lo abbiamo visto e quindi è bene che non si ripeta la stessa condizione e poi non ci vuole mica tanto perché basterebbe un'ora alla settimana basterebbe un'ora alla settimana in cui in tutte le scuole parliamo di salute al livello diciamo delle cognizioni delle singole età e avremmo una straordinaria diffusione di cultura però abbiamo bisogno di preparare delle persone abbiamo bisogno di preparare dei docenti che siano in grado di esporre che abbiano la metodologia ma che abbiano anche la capacità di comunicazione perché non basta nel parlare di un problema di sapere le cose bisogna poi anche poterle sapere esporre con chiarezza con anche con senso di dialogo accettando le domande discutendo perché è solo così che si può che ci si può far capire e quindi questo è un altro aspetto molto importante mi sto preoccupando un momento dell'orario perché hanno detto possiamo andare ancora avanti un po' ok allora hanno detto un quarto alle sei ah va benissimo allora possiamo possiamo andare avanti a discutere di che cosa dobbiamo fare d'altro qui mi hanno detto la prevenzione e poi naturalmente ci sono anche potremmo parlare molto di più la prevenzione ma mi preme anche di portare l'attenzione su altri aspetti del problema e cioè noi dobbiamo anche modificare alcune cose nell'ambito del servizio sanitario nazionale per esempio dobbiamo modificare alcune delle cose che avvengono a livello ospedaliero perché perché a livello ospedaliero quello che succede molto spesso è che vado ho bisogno di un determinato esame ho bisogno di una visita ho bisogno di qualsiasi cosa e la risposta in questi tempi soprattutto è sì le faccio la prenotazione siamo in aprile la faccio per novembre le liste d'attesa come sapete non le liste lunghe però c'è sempre qualcuno che vi dice ma se proprio vuole pagando la settimana dopo può avere tutto quello che vuole e quindi le stesse strutture le stesse persone le stesse apparecchiature che non sono disponibili per tutti sono disponibili per chi paga e questa è una forma di ingiustizia enorme che non possiamo assolutamente accettare è un'ingiustizia perché ritorniamo ai tempi di prima del servizio sanitario nazionale quando chi aveva soldi si curava adesso può avere soldi o avere assicurazioni è un modo per andare avere rapidamente quello che serve e non averli vuol dire aspettare e quindi vuol dire correre anche dei rischi per la nostra salute perché aspettando evidentemente aumentiamo i rischi non so se avete sentito certamente perché è stato molto propagandato in questi ultimi tempi che si sente dire è stato asportato un tumore di 8 chili di 6 chili di 5 chili perché sentiamo queste cose perché quelli che si dovevano curare durante il covid non sono stati curati e quindi abbiamo e avremo in futuro molti più morti di quelli che dovrebbero avvenire semplicemente per il fatto che durante il covid non abbiamo avuto la possibilità di curarci il che vuol dire che una delle prime cose che dobbiamo fare è quello di avere un sistema che ci permette di non ricadere negli stessi problemi perché quello che sappiamo tutti gli ospedali erano pieni di gente col covid non c'era posto per tutte le altre malattie e noi dovremmo fare delle cose molto semplici cioè per esempio basta pensare al fatto quello che facciamo per i militari abbiamo corazzate missili carri armati persone che non servono a nulla ma ce le abbiamo perché se vi andiamo attaccati possiamo perlomeno difenderci e la stessa cosa dovremmo fare per quanto riguarda le possibili pandemie perché ne verranno anche delle altre dovremmo essere pronti avere dei luoghi le mascherine gli ossigenatori tutto quello che serve perché se avviene qualcosa come quello che è avvenuto tre anni fa siamo pronti non toccando le strutture ospedaliere che devono invece continuare a occuparsi dei normali ammalati perché non è che il covid faccia scomparire dobbiamo finire ok finisco allora ancora vi dico soltanto tre cose per il futuro che secondo me sono sono molto importanti una è quella su cui potremmo tenere una conferenza di qualche ora sul fatto che dobbiamo ristrutturare la medicina del territorio cioè se c'è una medicina che è mancata è stata quella del territorio e oggi dobbiamo dire chiaramente che non è più possibile che un medico singolo continui a lavorare da solo la medicina è diventata complessa la medicina non può essere il frutto dell'attività di un singolo medico noi abbiamo bisogno di avere un sistema che chiamiamo case di comunità in cui più medici siano insieme e siano insieme lavorino insieme che abbiano i laboratori aperti otto ore al giorno per sette giorni alla settimana e non come oggi qualche ora alla settimana quindi questo è uno dei punti su cui dobbiamo assolutamente lavorare un secondo aspetto è invece un aspetto che riguarda di più le donne perché noi abbiamo scritto recentemente un libro dal titolo la medicina penalizza le donne perché perché le donne sono condannate a usare i farmaci che sono stati studiati nei maschi quindi i farmaci non vengono studiati nelle donne vengono studiati prevalentemente nei maschi ma noi sappiamo per contro che la stessa malattia non è uguale nel maschio e nella femmina è differente quindi non possiamo metterli insieme dobbiamo avere protocolli distinti per capire qual è la dose migliore il farmaco migliore per la donna per esempio noi oggi sappiamo che l'aspirina a basse dosi che viene data come terapia primaria ai maschi e alle femmine nelle femmine non è attiva e però ci sono milioni di persone che ricevono questo trattamento nelle donne milioni di donne per cui il farmaco non è assolutamente attivo quindi c'è questo grande problema che dobbiamo risolvere metà del mondo non è trattato in modo adeguato non solo ma proprio perché non è trattato in modo adeguato sappiamo che la maggior parte della tossicità avviene nelle femmine ci sono dei dati che ci indicano che a fronte di 1,3 milioni di effetti tossici avvenuti in un certo periodo di tempo nei maschi corrispondono 2 milioni di effetti tossici nelle femmine che vuol dire che sappiamo anche che molti dei farmaci che sono stati tolti dal commercio sono stati tolti dal commercio finisco subito e frate c'è un altro solo punto poi finisco sono stati tolti dal commercio per tossicità vista nelle donne l'ultimo punto è comunque guardiamo anche al futuro in modo diverso perché il futuro della medicina sarà completamente diverso da quello che pensiamo oggi e il futuro non è molto lontano il futuro sarà fatto di macchine che faranno tutti i mestieri che oggi pensiamo debbano essere fatti dagli uomini e i medici forse non ci saranno più perché utilizzeremo l'intelligenza artificiale quindi attenzione prepariamoci perché questo è un punto molto importante però intanto qualunque cosa ci sia il servizio sanitario nazionale sarà importante e fondamentale quindi conserviamolo per noi e per quelli che verranno grazie grazie a tutti grazie a tutti